La scienza che diventa conoscenza alla portata di tutti, bambini, scuole, genitori, esperti, divulgatori. Affare da contenitore di questo incrocio fermo, alle prese con fermamente, la scienza ogni giorno in corso fino a domenica 20 ottobre. Diverse le iniziative. Girare la città sabato e domenica lasciandosi affascinare dalle oltre 70 proposte, tra exhibit, mostre, conferenze, incontri, che mirano a raccontare la scienza in modo semplice ed efficace, come la matematica, la fisica, la chimica, la biologia, la medicina entrano nella nostra vita di tutti i giorni quando abbiamo a che fare da un vestito al televisore. Quest'anno il tema è scienza immagine, quindi ci concentriamo sul significato del pensiero scientifico all'interno dei fumetti ad esempio o delle fake news sulla rete e così via. Per un lavoro che ha messo insieme tutte le scuole superiori della città, le quattro università marchigiane, un comitato scientifico di prim'ordine e tante persone che hanno voluto dare il loro contributo nell'elaborazione di questi appuntamenti, speriamo, divertenti e di partecipazione per tutti. Tema di questa edizione è il rapporto tra scienza e immagine, oltre i confini dell'arte, dentro i confini della conoscenza. L'idea nasce un po' dal percorso dello scorso anno, che era relativo alla scienza addosso. La sfida era vedere quanta scienza abbiamo addosso, dal partito dello smartphone, dagli abiti che portiamo, da quello che indossiamo, da quello che utilizziamo per la cura della bellezza, eccetera. Da questo poi nasce l'idea dell'immagine che diventa uno strumento fondamentale, sia per l'uomo per confrontarsi, relazionarsi e comunicare, ma anche l'immagine per la scienza. Quindi la scienza che diventa, come posso dire, utilizzatrice dell'immagine a diversi livelli. Quindi l'immagine che diventa stimolo per la ricerca, l'immagine che diventa osservazione, l'immagine che diventa anche un modo per comunicare meglio la scienza, l'immagine che diventa un tramite della scienza. E quindi l'idea era quella di andare a approfondire questo tema in una terra di mezzo, che è quella che si colloca tra scienza ed arte.